Buongiorno, oggi sono qua per farvi il primo vlogmas che finalmente è arrivato dicembre e oggi iniziano i vlogmas Sono davvero felice perché era da tanto che non facevo dei vlog e soprattutto mi mancavano i vlogmas dato che finalmente tra poco è Natale Allora, oggi appunto è il primo dicembre ed è giovedì, sono le 14.58, io sono appena arrivata a casa da scuola, ho già mangiato, ho già fatto tutto Adesso sono qua al computer che stavo ascoltando un po' di musica, in più devi editare un video Appunto stamattina sono andata a scuola e non ho fatto nulla di che E poi è successo, come ogni anno è successo, il casino con Instagram, cioè mi succede tutti gli anni per Natale Cioè è il regalo che fa a me Instagram per Natale, ok? E non mi fa più entrare su Instagram perché dice che non va bene il mio profilo e tutte queste cose qua Quindi si vede che qualcuno mi ha segnalato più volte, è arrivata la segnalazione a Instagram Ha deciso di bloccarmi il profilo e se tipo non riesco a recuperarlo entro 14 giorni, che tipo 3 o 4 giorni sono già passati Quindi viene eliminato definitivamente, quindi spero di recuperarlo E basta, adesso appunto sono qua che sto ascoltando la nuova canzone di Fedez e di Jax Che non avevo ancora sentita e poi ascolterò un po' di musica, poi devo fare anche i compiti Poi oggi pomeriggio appunto farò i compiti e non so se andrò a ballo perché Perché vabbè c'è stato qualche problema, comunque dopo vedrete tutto quello che faccio Sono le 4.49, sono ancora qua a sedere perché sto ancora editando il video perché è davvero lunga come cosa Però perché questa in pratica è arrivata a casa mia mamma E cioè solo io posso avere una mamma che mi porta a casa il calendario dell'avvento di Mascheroso Però ovviamente cioè io non è che mangio solo il cioccolatino di oggi Ma cioè secondo voi mangio solo quello di oggi Ma mi sembra una cosa normale che io non mangi solo quello di oggi Perché tipo, boh, ho già mangiato molto il calendario Però ok, di fare qualcosa di istruttivo, se si dice così, sì Nella mia vita Tipo sono messa, boh, tipo così però ok Forse tipo sta cadendo tutto E perché mi sa che adesso inizio a fare i compiti Dato che sono le 5.25 Tipo guardate qua il mascara Però ok ragazzi, cioè Sono bella comunque lo so No no scherzo, comunque sono davvero in condizioni oscene Sono le 7.40 Io in pratica ho appena finito di studiare E tipo si capisce Cioè tipo ok E abbiamo preparato la tavola perché stasera Verranno dei nostri amici qua A mangiare a casa nostra Che mangiamo la pizza E c'ho pure voglia di pizza Adesso vi faccio vedere un po' la tavola O natalizio diciamo Perché comunque c'è il tavola natalizio E poi in alcuni c'è anche il segnaposto Cioè con l'alberello, il cioccolato E io stavo ancora finendo i compiti Però ok Allora come avete potuto vedere Abbiamo, cioè vi ho fatto Vi ho ripreso solo la parte in pratica Dove abbiamo mangiato il dolce Però abbiamo anche mangiato la pizza Che sono arrivati questi nostri amici Insomma Sono le 10 e 20 E io tipo Devo ancora finire i compiti Devo finire di studiare In più devo finire di editare il video Che domani deve essere pronto Infatti mi sa che mi aspetterà una lunga nottata Più devo editare questo vlog Quindi forza Iniziamo il primo dicembre così bello Io sono una persona normale Che alle minuti e 42 Ascolta la musica Cioè intanto qua c'è Easy Che è venuta perché vuole le coccole Non si vede niente Però è piccolata Ciao piccolino Ciao Ciao Allora in pratica È tipo stra tardi Perché è mezzanotte passata E Sì ma non so perché oggi Sto a mamma letto Così tardi Tipo sono struccata Sono messa così Perché sono pure stompa Giù tipo C'è una faccia oscena Però ok Allora il vlog di oggi Finisce qua Anche se non ho fatto Assolutamente niente Però domani sera Dato che venerdì Farò alcune cose Quindi domani Appunto vedrete tutto E quindi basta Grazie per tutto ancora E per quello che è successo Con Instagram Vi dirò più avanti Quello che è successo Come farò risolvere Eccetera Quindi grazie per aver guardato Questo vlog Io intanto giro un solo Per la camera Però ok Io vi mando un grosso bacio Ci vediamo domani Con il secondo vlogmas Ciao Ciao